Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlarvi di una cosa che è successa qualche giorno fa L'ho scoperta grazie alle tendenze di Youtube Alberdico De Giglio chiude il canale Voglio fare un mio commento Questo canale io l'avevo sentito parlare Non seguivo questo canale però Io comunque avendo se non erano 900.000 iscritti Comunque a che volte uscivate i video consigliati Oppure comunque di sfuggire al sito parlare Comunque sono rimasto sorpreso di una cosa Alberdico De Giglio ha 940.000 iscritti E nel suo video dove spiega che ho per vari motivi del canale Su non so quanti commenti solo due persone Mi ha dato conforto Cioè la cosa che mi sorprende Che si iscrive a un canale Si iscrive perché il contenuto vi piace Gli è simpatica la persona Porta bei contenuti Ma 900.000 iscritti Tutti i commenti A insultarlo Allora 900.000 persone sono scritte così Com'è possibile che su non so quanti commenti solo due persone L'hanno appoggiato Io non conoscendo questo canale Non so se in precedenza ha fatto video simili a visualizzazioni E poi un po' tempo dopo l'ho ritornato Non lo so veramente Però sono in una strada sorpreso Perché su 900.000 iscritti Quasi un milione 940 Quasi nessuno lo ha appoggiato In una sua decisione Questa cosa mi è rimasto proprio di stucco Vabbè Comunque questo canale non lo seguo Quindi non so se ha fatto in precedenza A video book better user Desserti Ma comunque Questo non è una cosa Non so comunque Visto che ho visto che sono una persona Ma diciamo comune Io ho tutto il meglio E spero comunque Questa scelta La possa far stare meglio Spero che il video vi sia piaciuto Iscriviti al canale E alla prossima